Professor Fazzi, c'è un po' di confusione al momento. Perché? Perché l'EMA dice che i richiami non si possono fare ogni 3-4 mesi per le difese immunitarie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che entro qualche mese la curva scenderà. Altri virologi invece dicono che questa variante Omicron o comunque col Covid faremo i conti tutti. Come stanno le cose? Allora, bisogna cercare di capire di che tipo di virus stiamo parlando. Noi stiamo parlando di un coronavirus che si sta piano piano adeguando all'ospite umano. Quindi adesso ci troviamo in una fase pandemica dove il virus ovviamente all'interno della fase pandemica ha dei picchi epidemici. In questo momento che fa freddo, il picco epidemico è in Italia o comunque in Occidente o nell'emisfero boreale. Mentre invece nell'emisfero australe attualmente si trova in una fase, diciamo così, di nadir. Ovviamente ci vorranno anni e questo virus diventerà endemico. Quindi diciamo che hanno ragione tutte e due. C'è Fauci che dice che diventerà endemico e c'è chi dice invece che ancora il picco deve arrivare, ovvero forse è già arrivato e ci troviamo sul plateau. Per quanto riguarda i vaccini ogni quattro mesi, oggettivamente non è mai verificato nella specie umana di essere stati vaccinati una volta ogni quattro, cinque o sei mesi. Gli effetti sul breve e a distanza di tutti questi vaccini oggettivamente noi non li conosciamo. Sicuramente dovrà essere cambiata la strategia vaccinale con l'avvento di un vaccino più duraturo. Ammesso che si possa pure fare, che torno a ripetere, noi parliamo di una famiglia di virus, di coronavirus, che normalmente non danno un'immunità lunga una volta che colpiscono l'ospite. E quindi anche il vaccino che viene comunque sintetizzato, ovviamente in base alle proteine immunogene del virus, ovviamente non riusciranno a dare un'immunità lunga. Probabilmente, fin tanto che ci sarà questa pandemia, il virus sarà ancora pericoloso, probabilmente ci converrà vaccinarci, come facciamo per l'influenza, una volta all'anno nel periodo peggiore, cioè quando noi ci aspettiamo il picco, ovvero all'inizio dell'autunno. Ma quindi, domanda secca, con questo Covid entreremo a contatto tutti o no? Prima o poi sarà così, così come è successo per gli altri coronavirus umani che danno il raffreddore comune. Però, ovviamente, il Omicron, quindi SARS-CoV-2, oggi, che ne dica qualcuno che si tratta di un'influenza, poco più di un'influenza, non è così. Omicron è ancora un virus pericoloso per la specie umana. Quindi, man mano si adatterà, non dico Omicron, ma qualche bisnipote di Omicron, gradualmente la specie umana e poi, finalmente, potremmo dire, ecco, è diventato endemico e dà solamente un raffreddore comune. Punto. Poi c'è stata una notizia che, insomma, ha scioccato un po' parecchi. Il premio Nobel Montagné, che si è schierato dalla parte del Neuvax, ha detto che i Neuvax salveranno il mondo. Lui aveva detto che in piena pandemia non bisognava vaccinare. Allora, non ci si vaccina quando il virus o il microorganismo e, tutto sommato, non dovrebbe dare grossi problemi alla specie umana. In realtà non è stato così per questo coronavirus e, anzi, grazie ai vaccinati e alle vaccinazioni abbiamo nettamente visto una diminuzione delle mortalità e dei ricoveri in ospedale. Quindi le cose non stanno, come dice il grande maestro Luc Montagné, che, ovviamente, diciamo, non mi ha deluso alquanto perché, insomma, da un Nobel, insomma, che è un grande medico, non ti aspetti, diciamo, delle uscite di questo tipo e addirittura la presenza in un contesto di Neuvax a Milano. E' pur vero che lui è sempre stato uno scienziato, un medico, che probabilmente è uscito fuori poco dal laboratorio dove lavorava e dove ha prodotto degli studi importantissimi. E quindi probabilmente un medico poco avvezzo al contatto con i pazienti. Diciamo che lo voglio giustificare in questo senso, però fondamentalmente per me, che l'ho sempre ammirato, ritenuto un maestro, è stata una mezza delusione. Lei ha detto che ne usciremo non prima di due anni. C'è chi invece dice che questa primavera forse pian piano ne verremmo fuori. E' d'accordo? Non sono d'accordo perché in questa primavera ci sarà ancora Omicron. Omicron comunque uccide. Meno di Delta, meno del virus di Wuhan, degli altri di Alpha, di Beta, eccetera, ma uccide. Quindi Omicron non sarà la soluzione, diciamo. La soluzione sarà qualche altra variante generata probabilmente da Omicron se le cose andranno in un certo verso, cioè bene. Perché adesso è la fase dinamica. Potrebbe uscire fuori pure una variante più patogina di Omicron e di Delta. Noi questo non lo sappiamo. Ecco perché bisogna stare tutti quanti ancora attenti. Professore, per concludere, è ottimista o no? Con l'avvento di Omicron sono moderatamente ottimista perché oggettivamente non uccide molto, diciamo così. I vaccini comunque anche contro Omicron tengono abbastanza e quindi sono moderatamente ottimista.